Una storia di accoglienza e di fraternità nata in un momento storico molto doloroso della Prima Guerra Mondiale. È quella che lega i comuni di Arezzo e Sappada, una vicenda cominciata con la rotta dell'esercito italiano dopo la sconfitta di Caporetto. Tra il 28 e il 29 ottobre 1917, gli abitanti di Sappada, investiti dalla conseguente offensiva e occupazione austro-ungarica, vennero evacuati. Oltre 600 sappadini trovarono rifugio ad Arezzo e dintorni. Oggi, a distanza di 100 anni, il ricordo di quei momenti verrà suggellato tramite la firma del gemellaggio tra i due comuni. I sappadini, in maniera abbastanza casuale, arrivarono quasi tutti ad Arezzo, 800 persone che furono accolte in maniera fraterna dagli aretini, al punto che Arezzo diventò la sede extraterritoriale del comune di Sappada, quindi anche un'unità amministrativa nella nostra città. Tant'è vero che domenica, mezzogiorno e mezzo, dopo la messa in Pieve, ci sarà la svelatura della targa che ricorda appunto al numero 13 di via Bicchieraia la presenza in quel luogo della sede extraterritoriale del comune di Sappada. Il giorno prima, il 4, ricorrenza della giornata delle Forze Armate, dopo le celebrazioni in centro con Sua Eccellenza il Prefetto e le Forze Armate, nel pomeriggio alle 16.30 in Sala Consiglio ci sarà la sottoscrizione da parte mia e del sindaco di Sappada che è nostro ospite del protocollo di gemellaggio tra Arezzo e Sappada. Poi io restituirò la cortesia e la visita a Sappada e farò un'eguale cerimonia nella sede consigliare di Sappada per suggellare definitivamente questo gemellaggio che ricorda una fratellanza fra due città. Importante nell'accoglienza dei sappadini al canto al sostegno delle istituzioni civili fu anche il ruolo delle diocesi del territorio aretino. Qui si distinse molto il vescovo Volpi, i canonici della cattedra diedero 300 lire, 1000 la fraternita, le varie parrocchie, le varie comunità, alcuni documenti ritrovati, ma veramente ci fu il popolo aretino nelle sue istituzioni e anche molte famiglie accolsero nelle loro case e questa gente. E dopo 100 anni è giusto dare evidenza a questa storia di questi due paesi, queste due comunità che si sono conosciute in un momento di dolore. Sono bellissime testimonianze di persone che hanno messo a disposizione i casi. Anche a Cortona furono accolti nella villa del Vescovo, al Campaccio.